Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'estate di Michelle Hansiker è iniziata all'insegna della famiglia. La showgirl svizzera ha trascorso diverse settimane in Sardegna, insieme alle figlie Sole e Celeste, godendosi momenti di relax lontano dal trambusto di Milano e dagli occhi indiscreti degli ex fidanzati. Ma l'indiscrezione ha fatto parlare di sé. Michelle è stata avvistata a Milano in compagnia del suo ex fidanzato Giovanni Angiolini, l'estate. Il settimanale Vero ha pubblicato degli scatti che mostrano la coppia mentre passeggia per le strade della città. Michelle e Giovanni si erano frequentati alcuni anni fa, subito dopo la fine del matrimonio di lei con Tommaso Trussardi. La loro relazione durò solo un paio di mesi, ma fece molto parlare di sé. All'epoca Trussardi non accolse bene la nuova relazione della sua ex moglie, definendo Angiolini non una persona per bene. Recentemente Giovanni Angiolini ha rilasciato un'intervista a Nunzia de Girolamo in cui ha parlato per la prima volta della sua relazione passata con Michelle Hunziker. Diciamo che è una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene. Lei è una persona alla quale vorrò sempre bene perché è molto brava e anche una donna davvero di cuore.